Ieri abbiamo parlato della necessaria conversione in chiave ecologica del parco circolante, abbiamo parlato di dieselgate, abbiamo parlato dei problemi che appunto la motorizzazione a gasolio, ciclo diesel sta incontrando, ma anche del fatto che le tanto temibili polvere sottili affliggeranno sempre di più anche il motore a benzina a causa dell'iniezione diretta. Bene, su questo tema è intervenuto un nostro lettore, Alex Under, che in fondo con qualche ragione ci accusa di essere un po' dei nostalgici del motore a scoppio e prevede che tra breve non ne parleremo più e ci saranno quindi tutte auto elettriche apparentemente del tutto esenti da inquinamento. Io vorrei dire temo da un certo punto di vista che così non sarà. Vedete, quando si influisce su un sistema complesso come quello della mobilità privata, che ha superato da tempo il miliardo di unità in circolazione nel mondo, non si parla semplicemente della realizzazione di prototipi, ma della realizzazione di grandi quantità di oggetti, in questo caso di vetture, ma soprattutto poi di infrastrutture adeguate a poter gestire numeri così elevati. Ora è chiaro che la combustione in un motore a scoppio, ma in generale qualunque processo di combustione, porta con sé emissioni di anidride carbonica che di per sé non sarebbe un veleno. Pensate a quante a quanta ne mettiamo noi, ci sono circa 6 miliardi di persone sulla terra per il solo fatto di vivere e cioè di respirare, emettono un'anidride carbonica, poi ci sono quelle delle foreste, poi ci sono quelle dei vulcani e via così. Certo in epoca industriale l'uomo ha dato una grossa mano a un aumento fuori controllo dell'antride carbonica, che non sarà un veleno ma determina l'effetto Serra, un effetto Serra che poi è alla base dei cambiamenti climatici e questo va riconosciuto. Ma il problema è che anche l'elettrico da un certo punto di vista non risolverebbe completamente la situazione, perché intanto bisognerebbe vedere come ci procuriamo l'energia elettrica necessaria per alimentare un parco così vasto di mezzi. L'energia nucleare non pare percorribile, quantomeno in molti paesi della terra. Allora ci saranno sicuramente altri sistemi, potrebbe essere dall'eolico al solare, ma vedete che quando noi parliamo di auto elettrica dobbiamo occuparci sì di auto, ma l'auto è il tassello più semplice da realizzare, è tutto quello che centrano. E a proposito di questo vi vorrei dire che gli elementi fondamentali per la batteria di un'auto elettrica, almeno lo stato attuale delle cose, sono fondamentalmente due, il covalto e il litio. Bene, sarà un caso che questi materiali vengano indicati con il termine di terre rare? Beh, evidentemente perché non sono molto abbondanti. ora, siccome già oggi, semplicemente per alimentare i nostri smartphone, abbiamo parzialmente compromesso questi giacimenti, non solo ma avviando uno sfruttamento territoriale ed umano di proporzioni in mani con i bambini dell'Uganda a raschiare con le mani il fondo dei bacini dismessi per trovare appunto ad esempio il covalto. Quindi, attenzione, non facciamoci prendere dall'utopia. Bella l'auto elettrica, ma evidentemente con tutta una serie di problemi. Nel frattempo, siccome l'auto elettrica non sarà né domani né dopodomani, sarà magari utilizzata a livello di flotte, a livello di car sharing, ma sempre in maniera estremamente marginale. Ebbene, dobbiamo arrangiarci con questo motore a scoppio e con la sua anidride carbonica. Tra l'altro, non ci sono soluzioni semplici per problemi così complessi. Tutto sommato, oggi un motore a benzina è abbastanza sotto controllo. Si tratta più che altro, ancora una volta, di intervenire sì sulle auto, ma sulle modalità di circolazione dell'auto. Una limitazione da una parte e una velocizzazione del traffico potrebbe ottenere vantaggi estremamente importanti. L'auto elettrica probabilmente un giorno arriverà, ma arriverà solo nel momento in cui noi sapremo come procurarci l'auto elettrica. O forse arriveremo con le fuel cell ad idrogeno. Ma ricordiamoci, il sistema difende se stesso. Il sistema, in epoca fra l'altro, di prezzo del petrolio estremamente basso, rende difficile immaginare una modifica di questa situazione. Ci accontentiamo dell'ibrido? Accontentiamoci. Ma ho la sensazione che sia più un falso alibi. Vedete, i grandi risultati dell'ibrido derivano dal fatto che quando la macchina va sui rulli, un ibrido ci arriva con le batterie perfettamente cariche, che però non entrano nel bilancio energetico. Praticamente arrivano sui rulli con due serbatoi. Uno lo si paga, l'altro no. E prima di riuscire a compensare l'aggravio di peso, che varia dalle 160 ai 250 kg delle batterie, beh, ce ne vuole davvero tanto. Non facciamoci ingannare troppo dall'utopia. L'utopia arriva quando noi meno ce l'aspettiamo, non quando ce la segniamo di notte. Punti a capo, ma domani si ricomincia.